Gentili telespettatori, buona giornata. E meno male che il festival di Sanremo sarebbe il festival della canzone italiana, sembra il festival della politica, perché il caso della giornalista, sì, no, italiani razzisti, ma dovete invitarla lo stesso, lei parla solo di questo e di quello. Ritta Pavone, adesso c'è la polemica anche su Ritta Pavone, no alla sovranista a Sanremo. A parte che Ritta Pavone è un'icona della musica italiana, che cosa c'entra la sua idea politica se è di destra, di sinistra, di centro, di sopra, di sotto? Qual è il problema? Se va a Sanremo a cantare una canzone o a parlare di musica che sia sovranista, interventista, nostalgica imperialista, che sia di estrema sinistra, chi se ne frega? E invece no. E invece deve interessare anche se Ritta Pavone è sovranista o nazionale di qualche altra cosa. E Salvini la difende. Adesso vediamo quello che è successo. Ritta Pavone torna sul palco del Sanremo dopo 48 anni con il brano Niente. L'annuncio dato da Amadeus nel corso della puntata speciale dei soliti ignoti, legata poi alla Lotteria Italia, durante la quale Amadeus, conduttore, fa il nome dei cantanti che vanno ad aggiungersi agli altri 22 già resi noti. Oltre a Ritta Pavone parteciperà alla settantesima edizione del festival della canzone italiana, anche Tosca. Alla rete che cos'ha contro Ritta Pavone? L'attaccano per i suoi scivoloni. Cos'è stato? Il primo l'attacco attacco. Quello che ha detto sui Pearl Jam nel 2018 perché avevano messo su un'immagine a sopporto della campagna Porti Aperti e aveva scritto ma farsi gli affari loro o no? E poi al commento su Greta, quella dell'ambiente, Thunberg, che aveva scritto quella bimba con le trecine che lotta per il cambio climatico, non so perché, ma mi mette a disagio. Sembra un personaggio da film horror, poi si è scusata. Il fatto dei problemi del clima, che noi stiamo andando verso la fine del pianeta, su questo non c'è dubbio, non c'è da essere né catastrofici né nient'altro. Il pianeta sta morendo, si sta surriscaldando, e quando passerà il grado non si potrà più tornare indietro, si va verso la distruzione del pianeta. Questo è un fatto scientifico ormai, quindi ostinarsi a dire ma oggi faceva freddo, ho messo anche i guanti, ma che è, anche se... Sono tutte sciocchezze. Però il clima non è né di destra né di sinistra. Che scemenza è? Se sei di sinistra sei per salvare il pianeta, se sei di destra sei per il no. E questa è una stupidacine, no? Quindi che lei abbia definito Greta come un film horror, forse gli ricordava magari la famiglia Adams, vi ricordate che c'era una bambina con le trecce nella famiglia Adams? Comunque, a parte questo, non vedo perché... Sì, ha detto attaccati Pearl Jam perché volevano i porti aperti, ha detto ma fatevi gli affari vostri, ok. Da lì hanno capito che è una salviniana sovranista. Aveva scritto Rita Pavone perché non ci sono i vucumprà sulla rambla di Barcellona nel giorno dell'attentato? Scriveva E Salvini interviene su Twitter e dice oggi il nuovo nemico della sinistra è Rita Pavone. Non ci sono più i comunisti seri di una volta, scrive Matteo Salvini. Ad esempio, Cristiano Malgioglio dice Rita Pavone a Sanremo, meraviglioso, artista che amo molto, una vera numero uno. Fiordaliso dice Non capisco questo linciaggio di Rita Pavone. A volte io non sono d'accordo con lei, ma Sanremo non è politica. Abbiate pazienza. Lei è una delle più grandi artiste italiane. O avete la memoria corta. Io sono contenta che partecipi. Red Ronny invece pubblica un video su Facebook. Dice Lettra Lamborghini che è lì solo per mostrare il di dietro e perché si chiama Lamborghini non suscita polemiche. Rita Pavone suscita polemiche perché è sovranista. Ma di che parliamo? Poi Rita Pavone è un'artista con una carriera che nessuno ha in Italia a livello femminile. Rita Pavone è andata all'ED Sullivan Show. Nessun'altra donna italiana ci è andata. Elvis Presley entrò in uno studio e le disse Ti ho visto all'ED Sullivan Show. Brava. Parliamo di Elvis. Rita Pavone ha una storia incredibile oltre ad essere una persona meravigliosa che io legga su Twitter ah fa la sovranista è assurdo e lei ha replicato brevemente durante la foto di rito dei partecipanti al festival e dice come diceva Charlie Chaplin dice Rita Pavone preoccupati più della tua coscienza che della reputazione perché la tua coscienza è quello che tu sei la tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te e quello che gli altri pensano di te è problema loro. Su questo vorrei aprire una parentesi. Io spesso nei miei video pongo l'accento sui leoni da tastiera quelli che internet commentano attenzione internet è un megafono di tutti prima vent'anni fa potevano parlare solo i premi nobili i giornalisti gli intellettuali tramite i giornali e gli inviti nelle televisioni che poi non erano come adesso che sono tantissime le televisioni quindi prima meno televisioni i giornali quello era l'unico modo di poter esprimere la tua opinione e dovevi essere invitato a scrivere o in televisione oggi come dice come diceva Umberto Eco che non c'è più oggi può scrivere può avere la stessa risonanza un premio nobel quello che dice è come l'ultimo degli imbecilli che scrive su internet che diventa virale la cretinata che ha scritto ovviamente è così nel senso che chiunque nascosto a casa in qualunque parte del mondo dietro una tastiera può scrivere tutto quello che gli passa per la testa ma tu che ricevi l'insulto di uno sconosciuto via tastiera non ci devi neanche fare caso ecco io sono dell'idea come fa Rita Pavone come fa anche come si chiama Liliana Segre come fa ad esempio alcuni personaggi come influencer come la Ferragni dicono ma io scrivo in quanto personaggio pubblico scrivo perché il mio lavoro è scrivere su Instagram su Twitter fare il video quello che commentano non me ne frega niente perché quello che commenta il leone da tastiera è qualcuno che potrebbe commentarlo in un bar in una pizzeria di un paese lontano mille chilometri da me io cosa faccio me la prendo per tutti quelli sconosciuti che dicono qualcosa contro di me ma anch'io se sinceramente personalmente ma voi non sapete quanti insulti ricevo al giorno io se volete insultarmi potete farlo sotto i video tanto io sotto i video non vado mai rarissimo è rarissimo che vado proprio se ho tempo da perdere ma non ho tempo da perdere quindi mai mai vado sotto i video lì potete scatenarvi a dirmi tutti i colori chissà quante me le avete dette mentre nella community ogni tanto vado a vedere qualche ma ogni tanto a volte trovo qualcuno rabbioso come ieri ho trovato uno che era tutto con la bava la bocca di rabbia contro di me che neanche mi conosce non mi ha mai visto non mi ha mai parlato però lui mi odia no? io cosa ho fatto? semplicemente l'ho bannato dal canale cioè lui rimane iscritto può vedere i video però quando lascia un commento e schiaccia invio il commento non rimane nella community e lui dirà come mai non rimane proverà a scriverlo mille volte e vedi che invia e poi non c'è ecco ma a volte non sto neanche a finire di leggere l'insulto quando vedo lei come invia ban ban ma ogni tanto quando trovo qualcuno è così per sbaglio ma non neanche me la prendo è perché non bisogna prendersela per degli sconosciuti la stessa cosa che dice Rita Pavone devi pensare solo a te stesso a quello che credi giusto o sbagliato a quello che fai quello che dicono gli altri è un loro problema nel senso se uno è rabbioso verso di me ma è un suo problema che vive male a me non me ne frega assolutamente nulla di nulla no? e poi tanti mi dicono perché non non dici il tuo nome il tuo cognome dove vivi l'indirizzo il telefono ma secondo voi con il clima che c'è in Italia io vado a mettere pubblico il mio nome il mio cognome dove lavoro per trovarmi persone rabbiose fuori dal mio ufficio e no perché è pericoloso è sicuramente pericoloso perché ormai sorpassando i 40.000 iscritti il canale con circa 22 milioni di visualizzazione in pochi mesi sono diventato un personaggio pubblico con 22 milioni di visualizzazione in 4 mesi vuol dire che molte persone in Italia ormai mi conoscono mi possono anche riconoscere per strada io devo mettere il mio nome cognome indirizzo dove lavoro ma per favore no? siate seri io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale come vi dicevo l'iscrizione è gratuita comporta solo un sostegno al canale e con l'iscrizione però nella community potete partecipare a tanti sondaggi e commentarli se vi interessa siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia dove ci sono tutti gli stessi video presenti su Youtube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate in internet fuori da internet nel senso che dei miei video potete fare nell'uso che più vi pare e piace a me non interessa vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci